La vita cristiana è un cammino e Gesù è la strada giusta. Celebrando la messa a casa Santa Marta, Papa Francesco ha ribadito che i discepoli del Figlio di Dio sono chiamati a seguirne l'esempio e che l'esistenza è feconda se si procede lungo il giusto itinerario. Di qui il Pontefice ha fatto alcune considerazioni sui differenti tipi di uomini in cammino. Ci sono infatti quelli testardi che proseguono pur avendo sbagliato strada, quelli vagabondi che girano come in un labirinto senza seguire la bussola di Gesù, quelli che vengono in seduti da una bellezza e si fermano a metà strada e ancora quelli che non camminano. Un cristiano che non cammina, che non fa strada, è un cristiano non cristiano, non si sa cosa è, è un cristiano un po' paganizzato, lì sta fermo, non va avanti nella vita cristiana, non fa fiorire le beatitudini nella sua vita, non fa le opere dei misericordi, è fermo. scusatemi la parola, è come una momia, lì, una momia spirituale, e ci sono cristiani che sono momie spirituali, fermi, non fanno dal male, ma non fanno dal bene.